...come dire, con una nuova stante volete, forse anche un maggior controllo locale. Quindi il concerto è dedicato a quello che in aula segna via Bologna e Feste, abbiamo dedicato il nuovo l'antico, come dicevo prima, poi ci saranno altri concerti che sono, che vi riliteranno anche alcuni, c'è appunto Shostakovich, Gubaidulina e altri, c'è anche Boccherini, quindi diciamo il percorso copre uno spazio molto ampio. Questo concerto è molto diverso da quello che farete domenica per Materanio? Eh, beh, diverso nel senso che anche in realtà c'è una, 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 una parte in Cile che è un discostoglio di un papà, di Gesùato da Menoda, e noi abbiamo detto storio, insomma, da un po' di tempo, che stiamo studiando perché, nel sabito del trituo, che è intero, di Gesùato da Menoda, e noi abbiamo detto storio, insomma, da un po' di tempo, che stiamo studiando, perché,